le immagini salienti di gara 1 dell'euro formula open da budapest con felipe druvich che parte dalla pole position amministrando il proprio vantaggio nei confronti di bentviscalmente marco sibert alla meglio sui vest baltas ed alex carcosi ci si porta all'inseguimento dei compagni di casa campos bella rimonta anche da parte matteo siorio che dalle retrovie risale fino a portarsi in scia al compagno vest baltas già prime schermaglie in casa rp tra samaya e ogenborn ha qui l'aggancio definitivo col brasiliano che tampona l'olandese gara letteralmente finita per entrambi col brasiliano che parcheggerà safety car che interviene per questo incidente avvenuto ad alex carcosi che accelera sulla pista bagnata e impatta contro le barriere rompendo la posteriore sinistra qui in ripartenza iorio ed asano la meglio su baltas si gira invece ogenborn senza alla posteriore in assenza di carico il ritiro per lui la seconda safety car chiamata da questo contatto tra ann e danner in seno al team drivex alla ripartenza sibert cerca di andare all'inseguimento di bent viscal per la seconda posizione ma si difende l'olandese mettendo sotto pressione felipe drugovic che segna il giro veloce della gara il numero 37 715 prima di passare sotto la bandiera scacchi ed ottenere un'altra clamorosa vittoria in questa stagione e andare sempre più leader di campionato ciao 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 ciao